Musica Vasta area di alta pressione interessa gran parte d'Europa con massimi tra isole britanniche e paesi bassi. In Toscana venerdì 1 novembre, sereno o poco nuvoloso, salvo foschie durante la notte e le prime ore del mattino. Venti deboli, variabili, mari quasi calmi, temperature stazionarie o in lieve calo. In provincia di Lucca, cielo sereno. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 8, massima 23 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane, minima 5, massima 21 gradi. A Viareggio e sul litorale, minima 11, massima 21 gradi. A Massacarrara, cielo sereno, temperatura minima 11, massima 21 gradi. A Toscana